La Fondazione Carifano rinnova l'impegno a favore di interventi a contrasto della povertà. È stato pubblicato, infatti, il bando che fa riferimento al settore volontariato, filantropia e beneficenza per il 2023 e che si rivolge a soggetti compresi tra Fano, Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, Senigallia e terre roveresche. Questa misura si va ad aggiungere a quella del crowdfunding, a testimonianza della sensibilità della Fondazione nei confronti del bisogno e della coesione sociale. Il bando volontariato, filantropia e beneficenza quest'anno prevede un importo di 70.000 euro. È un bando che è a disposizione degli enti del terzo settore, di tutto il nostro territorio di riferimento e quest'anno, come peraltro anche negli anni precedenti, pensiamo e speriamo che questa possa essere un'opportunità anche per iniziative innovative come la teleassistenza, il telemonitoraggio e quindi speriamo che gli enti del terzo settore, che sono tanti nel nostro territorio di riferimento, è veramente un settore molto frizzante, ancora forse un po' fragile e quindi tante iniziative che la Fondazione porta avanti proprio per cercare di formare e informare questo ambito per proporre anche iniziative innovative. Quali sono i criteri di valutazione? I criteri di valutazione sono diversi, ma certamente verranno premiati tutti quei progetti che vedranno la coprogrammazione, la coprogettazione di più enti, di più associazioni che operano nello stesso territorio di riferimento e che svolgono anche attività simili. Questo perché siamo convinti che sia certamente più impattante un progetto che vede il coinvolgimento di più associazioni e di più soggetti. Il bando a chi è rivolto nello specifico? Il bando quest'anno è rivolto a tutti gli enti privati del terzo settore, quindi gli enti senza scopo di lucro, che operano nell'ambito del territorio di riferimento della Fondazione, che coincide sostanzialmente con, oltre che la città di Fano, con la vallata del Metauro, la vallata del Cesano, tutti i comuni che si trovano in questo ambito. Com'è possibile presentare la domanda e qual è la scadenza prevista? Sul nostro sito, sul sito della Fondazione, è pubblicato, già pubblicato il bando, che a scadenza 15 settembre, entro le ore 12 del 15 settembre occorrerà presentare la domanda che può essere presentata manualmente, così, oppure tramite mail o pecc o raccomandata alla sede della Fondazione e tutti i dettagli sono appunto presenti sul bando che è stato pubblicato.